Allora siamo con l'allenatore del Kezmaia a commentare questo importante passaggio del turno proprio arrivato all'ultimo su rigore da parte del Kezmaia che mi pare abbia giocato una buona partita abbia in questa partita forse anche meritato, non so... Ma quello sai, quando ti ritrovi a 10 minuti della fine, svantaggio e codisco dei supplementari potevamo avere un calo mentale anche perché venivamo da una situazione particolare con il cambio dell'allenatore, invece devo fare i complimenti ai ragazzi perché anche a testa bassa siamo andati poi a ottenere il meritato pareggio, almeno il meritato pareggio. Sì, infatti anche sullo 0-0, soprattutto nel secondo tempo, mi è sembrato che la vostra squadra abbia avuto diverse occasioni anche per passare in vantaggio e soffrire meno alla fine. Sì, hai detto bene, ci siamo presentati negli ultimi 16 metri almeno 5-6 volte. Alcune erano azioni veramente nitide, bastava spingerle in porta e pazienza, li faremo sabato. Adesso sotto col campionato? Beh, la cosa più interessante è quella di risalire la classifica, però anche la Coppa non si può sottovalutare perché comunque dà la possibilità a tutta la rosa di giocare e quindi più uomini sono a disposizione è più facile ottenere buoni risultati. Benissimo, grazie molto. Grazie.